Le messe di Como per senza tetto i migranti sono sovraffollate e a breve il centro governativo di Via Regina potrebbe aprire le porte a pranzo e a cena per allentare la pressione. La conferma arriva direttamente dal direttore della Caritas di Como, Roberto Bernasconi. Il problema si è fatto più evidente nelle ultime settimane e da qui è nata la proposta che sarà ancora vagliata dalla Caritas stessa, dalla Croce Rossa e dalla Prefettura. In sostanza però l'ipotesi di base è chiarissimo, aprire le porte del centro di Via Regina ai migranti, compresi quelli usciti dai canali istituzionali e regolari, per pranzo e per cena. Il che non significa che chiunque potrà indistintamente presentarsi al campo per poter mangiare. Prima, ed è questo uno degli aspetti tecnici su cui si sta lavorando, i migranti dovranno passare dal servizio porta aperta, emanazione della stessa Caritas, per poter ottenere un tesserino ad hoc ed essere inseriti in un canale ufficiale. A quel punto il migrante potrà pranzare o cenare in Via Regina 40 anche senza fermarsi al campo. Su quante persone potranno essere accolte, oltre a coloro che già sono al centro, sono in corso le stime, ma il tetto dei migranti accoglibili dovrebbe essere fissato attorno a quota 100. Questo comporterà naturalmente anche un incremento dei pasti serviti, oggi portati tramite servizio catering. Ma su come incrementare i piatti, per soddisfare la domanda, non è ancora stata trovata una soluzione definitiva. Grazie a tutti.